L'euro si apprezza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro-dollaro usa quota 1,1466 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,1402. Migliora il sentiment degli investitori in Europa, che è salito a febbraio a 16,6 punti dai 14,9 punti di gennaio. Il biglietto verde sale nei confronti dello yen. Il cambio dollaro usa yen quota 115,82, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 116,29. Sono migliorate le condizioni economiche del Giappone nel mese di dicembre, con il leading indicator in aumento 104,3 punti. La sterlina consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde e scambia quota 1,3613 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista a 1,3741. L'inflazione statunitense ha evidenziato un balzo dei prezzi al consumo sui massimi dal 1982. L'euro si muove in forte rialzo nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia 132,83, con la nuova resistenza vista a 133,19. Il saldo delle partite correnti del Giappone si chiude in deficit nel mese di dicembre, con un disavanzo pari a 370,8 miliardi di yen. L'euro si muove in forte rialzo nei confronti del Giappone.